Il Covid ha rotto delle relazioni, ha tenuto in casa molte persone per molto tempo, ha congelato attività e quindi oltre ad essere una pandemia, ovviamente, quindi una risposta purtroppo di tipo sanitario, è stata anche una grande tragedia da un punto di vista relazionale. Prima l'emergenza pandemica e poi la guerra in Ucraina. E anche questo ha avuto un riflesso nella psicologia delle famiglie, delle adolescenti e quindi il progetto ha cercato di contenere e di creare degli spazi che potessero far sentire le persone all'interno di un percorso sicuro dove è possibile condividere stati emotivi e soprattutto confrontarsi con professionisti che fossero in grado di dare una risposta tangibile alle necessità del momento. L'edizione 2022 di Estra e Diversa ha così proposto dei colloqui d'indagine per comprendere l'impatto emotivo dei ragazzi e soprattutto dei più fragili di fronte a questi due eventi. Presenta davvero un'occasione non solo di sponsorizzazione ma di aiuto e di investimento sia per quanto riguarda le famiglie dei più fragili sia per quanto riguarda questi bambini che hanno fatto questa bella esperienza. Il progetto promosso da Estra in collaborazione con il comune di Arezzo, Coingast, l'associazione Crescere e la Scuderia di Pan ha l'obiettivo della presa in carico dei bisogni delle fasce più deboli della popolazione, nello specifico degli adolescenti tra i 10 e i 18 anni con rischi psicosociali e disabilità di vario genere e delle loro famiglie. Ogni anno viene aggiunto qualcosa in più per dare quindi un'opportunità ai ragazzi ma soprattutto trovare nuove esperienze e nuove emozioni per tutti, in primis anche per noi che partecipiamo attivamente alle attività dei ragazzi. Le attività di gioco e sport si sono svolte tra giugno e settembre. A salire sul cavallo la prima volta avevo paura e dopo ho smesso di avere paura e poi salgo su una cavalla che mi diverte tanto. Noi generalmente si pensa sempre che siamo noi che diamo a questi ragazzi con disabilità e non è così, sono anche loro in grado di darti molte cose sia a livello di emozione, di insegnamento, anche di come prendere la vita stessa insomma, che vedendo la gioia e l'energia con cui la prendono loro molto spesso possiamo pensare che quelli che per noi pensiamo sono grossi problemi della nostra vita forse sono una cavolata.